Allarme per un incendio nei boschi sopra la mar di Gardolo. Il rogo, ben visibile da Trento, si è sviluppato ai piedi della Paganella sul don del Ghiro, a fare paura alla presenza di un traliccio dell'alta tensione. È imminente il cambio ai vertici dell'Adige e del Trentino. A marzo Faustini prenderà il posto di Giovanetti alla direzione del quotidiano di Via Missione Africane. Sarà invece referente anche per l'Alto Adige. Mantovan ha defice solo del Trentino. Arno Compacer è il nuovo presidente della regione Trentino-Alto Adige. È stato letto con 41 preferenze. Lavorerò a favore della popolazione, ha detto dopo la nomina in consiglio. Poca speranza per la provincia di Trento di gestire la tratta di competenza trentina della Valdastico. Comanda il Veneto. Gli studi li faranno il ministero e ha quattro serenissima, risponde Fugatti a un'interrogazione di Coppola. In bocca la ciclabile con l'auto ma rimane bloccato sul cavalcavia. Un anziano liberato dalla polizia locale e un'automobile si cappotta alla rotatoria. Dopo un incidente, ferita una persona. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAF Acli. CAF Acli ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199-199-730